ciao ragazzi oggi vedremo una cosa abbastanza particolare perché fortnite sta facendo delle collaborazioni molto probabilmente il portale vicino a un divietto un'immagine comunque di dove è c'è praticamente quella casetta vicino al lago sarebbe tipo qui ecco qua qui in questa zona però molto probabilmente fortnite ha voluto fare una collaborazione con fnaf ovvero aspettate finance spredis non so se l'ho detto benissimo perché non riesco a dire benissimo comunque probabilmente questo è un concept ve lo faccio vedere e che l'ho messo anche come copertina c'è un concept di come dovrebbe essere la skin di fnaf questa è l'abbreviazione che diciamo utilizzano tutti e effettivamente se noi notiamo c'è uno spray che ci sta moltissimo poi c'è il il banner e poi c'è una specie di testa che dovrebbe essere lo zaino e tutti i consigli aggiuntivi nella skin di freddy alla fine dell'orso devo dire è molto carino ma perché ci sono perché ho detto proprio fnaf e non ho detto magari altri altri tipo di collaborazioni perché nel gioco nella parte del gioco si pensa c'è stato c'è proprio questa animazione che noi vediamo in uno dei giochi uno degli ultimi giochi in cui c'è una persona che pesca e questo lago è stato associato un po' al lago che c'è di fortnite ovvero qui dove vi ho fatto vedere io perché un po' ci assomiglia c'è comunque un lago c'è in una cassa e c'è questo persona che pesca diciamo che si vede nel gioco effettivamente perché l'ho visto giocare e c'è proprio questa parte che è tipo una una stanza segreta dove poi alla fine si vede questo filmato particolare probabilmente l'hanno fatto proprio per probabilmente proprio per cioè per fortnite ha preso questa cosa per collaborazione e magari quel lago in realtà fortnite l'aveva fatto tanto per e poi ci hanno fatto la collaborazione tramite questa cosa che è tutto possibile comunque se eventualmente non è fnaf potrebbe essere un'altra tipo di collaborazione non mi ricordo il nome e no comunque ragà non lo so non si sa effettivamente penso che sia comunque fnaf perché moltissimi lo stanno dicendo però non credo proprio non credo proprio cioè non ne ho idea di quale potrebbe essere se non è fnaf un altro tipo di di collaborazione per ora si parla solo di questo quindi questo è un concetto quello che sto dicendo non so se effettivamente ci sarà fnaf ma molto probabilmente sarà così io vi ricordo di lasciare like e iscrivervi ciao ragazzi ciao 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 ciao